Ciao a tutti, voglio iniziare oggi una serie, una breve serie in realtà, dedicata a Deep Rock Galactic che è ancora in Early Access. Questo weekend c'è stato il weekend gratuito su Steam, c'è il weekend gratuito su Steam in cui potete provare il gioco fino a domani sera o forse lunedì se non mi ricordo. Abbiamo preso questa occasione per giocarlo con gli amici di sempre, quindi abbiamo Mattia, Maddy e Boomer che forse ricordate perché ha giocato con noi un pochino a Vermintide. Io il gioco ce l'ho, nel senso che io l'ho già acquistato mesi fa. Loro al momento non ce l'hanno per cui approfittiamo semplicemente del weekend gratuito. Eh, come non approfittarne. E quindi vediamo com'è, vediamo se piace a tutti e magari chissà, magari continueremo. Basta! Ecco lui dice che lui. Mosse stilosa, squadra. Ok. Io ho già fatto, mi allontano un attimo dalla discoteca, avevo già fatto un episodio dedicato alla Closed Alpha, l'avevo giocata con Riccardo a suo tempo. Poi l'avevo preso in air, appunto perché comunque mi interessava, ma non c'è stata più occasione. Se avete visto la Closed Alpha sapete più o meno che il gioco è. È una specie di Left 4 Death, tra virgolette, collaborativo, in cui siamo tutti e quattro dai nani che scaviamo alla ricerca di minerali. E mentre cerchiamo questi minerali, veniamo però attaccati da insettoi di vari mostriciattoli che ci vogliono fare alla pelle. Il gioco prevede delle classi, poi c'è anche il discorso dei vestitini, si può cambiare, si può potenziare l'attrezzatura, le armi, mi pare anche il robottino che ci segue. Certo, molto gente. Vabbè, ci stanno però, sono dei nani rozzi. Ci voleva il rutto, cavolo. Nessuno che fa il rutto. Eh no, lo fai, lo fai. Lo fa? Sì, se la bevi lo fai. Ok, qua c'è il tutorial che però non è disponibile in questo momento, non l'abbiamo fatto. Abbiamo un negozio accessori, che questo, non sbaglio, sono appunto i vestitini, no? Sì. Esatto, infatti vedete lì, cappello da Babbo Natale, più o meno, da festa. L'attrezzatura, che si può potenziare. Armatura, le granate, in questo caso la pistola teleferica, perché ogni personaggio ha due cose, mi sembra, che si differenziano. L'arma che porta e l'accessorio di base, se non sbaglio, no? Sì. In questo caso l'artigliere ha la pistola teleferica, che è una cosa che spara, è una corda che permette di salire. Mentre invece gli altri, tu? Sì, poi non devi prendere tutti i bonus, perché alcuni bonus ti penalizzano. In che senso ti penalizzano? Eh, adesso ti faccio un esempio. Se io prendo nella pistola e lancio... Però tu li puoi sbloccare tutti? Solo che devi selezionarli. Tu questo che intendi? Sì, sì, piano piano di sblocchi, secondo che vi piace il livello, poi ti fanno... È abbastanza normale, insomma è anche per, come dire, non avere lo Uber... C'è lo Uber Nano, c'è lo Uber Mensch, che è il super uomo, il super nano... Sì, perché alcuni ti danno, tipo, meno munizioni, ma munizioni più potenti... Quindi devi sapere valutare un attimino. Sì, di solito lo fanno per venire incontro a... un po' come giochi tu... E un po' eventualmente, ma non so se è questo il caso, al tipo di missione che devi fare... Ci sta, mi piace come cosa. Poi c'è il commercio minerale, sblocca lo scambio minerale alla banca dei incarichi... Non ce lo dà, quindi adesso lo modifica per il drone. Il drone è quello che ci segue, se non sbaglio, no? Eh, però solo se giochi da solo. Ah, come si chiama? Ah no, si chiama in un altro modo l'altro robottino, quello che devi... Caricargli i minerali. Sì, quello è il mulo. Mulo, il mule, sì, ok. E qui abbiamo il terminale missione, che però al momento mi spiegava... Boomer che non si può fare, perché dobbiamo prima essere assunti dalla compagnia e quindi c'è da fare questa serie qua di missione inizialmente. Poi c'è il guardaroba che invece è il vestito e la personalizzazione del... No, non c'è niente, c'è solo la pelle, per favore. Quando guardi il termine di missione, ce n'è una con un simbolo che lampeggia, un quadrato che lampeggia. Devi selezionare quella missione. Eh, qua? Sì. Per terminare le missioni? C'è quella che lampeggia, sì, però non so se ce la fa fare. Sì, sì. Ce la fa fare, in realtà. 200 monete di morchita. Secondo te conviene fare questa o... Eh sì, perché finché non fai le sette che dice lui, non sblocca tutto il resto. Cioè, quindi ci dà questa, ma non... Diciamo, puoi fare le altre missioni, però... No, partecipa a host pubblico? No, eh, host... No, dovresti fare host privato, con password. Ok, proviamo a fare questa, allora. Periodo di prova. La prima. Benvenuto a bordo, minatore, congratulazione per aver deciso di iscriverti a DeepRogalactic. Nella serie di missioni successive, sulla superficie di OxS IV, o sotto superficie realtà, familiarizzerete con le procedure... Saranno che non mi sono incartato a leggere quella parola. Di estrazione della società e sulla corretta gestione degli strumenti e delle risorse aziendali. Tieni presente che solo il meglio del meglio entra a far parte del gruppo. Il corso ha un tasso di abbandono del 67% e il 74% di abbandono è una diretta conseguenza dei decessi, dei richiedenti. Però non preoccuparti, questi pensieri oscuri. Benvenuti in famiglia, insieme scaveremo per un domani migliore. Poi dice salta... In realtà mi dice che posso solo saltarlo. O come posso selezionarlo? No, è già selezionata. Devi essere despoi la selezione da terminale di missione. Quella che era un peggio. Cioè, devo andare qua e poi qua? Sì. Ah, ecco. Ok. Qui c'è host privato, dicevi di fare, no? Eh sì, così siamo solo noi, se uno crasha. Partita privata, pericolo 2, pericolo 3, pericolo 4. Lo facciavano 2. Qui c'è la lunghezza della missione, che è la più breve. Ah. E la complessiva della caverna, che è la più bassa. Ma non è già preimpostata la missione? È preimpostata, sì. Devo fare confermare. Il gioiello del guerriero? Come il cavolo si chiama? Ma credo che voi non dovete fare niente, in realtà. A me dice di fare il gioiello del guerriero. O come si chiama? Per me, la traduzione... Warriors J1, sì. Sì. Fra tutte le viste più spettacolari di Oxus, le propriamente dette caverne di cristallo, sono un vero spettacolo per gli occhi. I giganteschi cristalli spuntano da ogni superficie. Brillano e splendono l'oscurità. Ahimè, i cristalli più grossi sono inutili, silicati, ma ci sono anche abbondanti depositi minerali di valore che punteggiano le caverne. Proviamo a confermare, vediamo... Sì, 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 è quella, è quella. Vi parte anche a voi? Sì, è verto di qua, è verto di qua. Sì, no. Vi fa molto... Titanfall era così, ma era ancora prima di Titanfall era Evolve, se vi ricordate, si partiva... In questo caso è una trivella, stiamo andando giù, però gli altri casi non volavano. Praticamente le sette missioni sono le sette missioni, tipo un tutorial avanzato, perché ogni missione è diversa, sono le sette mappe diverse. Quindi, questo è sempre quello che voglio fare qua. Facciamo prendere le borchite e... Allora, dobbiamo prendere... Ah, proprio sto parlando invece delle classi, allora io appunto ho questo mitareatore e faccio la teleiferica. Nei vostri casi invece... Ok, borchi. E io ti ho, io sparo il rampino e le luci... Sparo delle luci che rimangono. Io come attivo le cose? Ecco. C'è scritto su... Basso a destra. F, G, no? Sì. Ah, ok. Sì, F, T, D. No, quella è F, R, F. Come si fa a fare invece la teleiferica? Eh, uno, due, tre, quattro... Ah, ci va là. Chiamamul, control, puntatore di squadra. F, G, no, c'è più di un tot di cose non potete prendere. Ah, c'è anche una specie di scanner del terreno. Sì. C'è un po' di raccogliere al massimo 40 di ogni tipo. Se ne prendi più di 40 la buttate. Ma come vedo dove è la mia roba? Quello che ho preso. Con l'uno io ho il minigun, col due il revolver pesante, col tre la pistola teleferica e col quattro il genera scudo. Cos'è? Beh, ecco. Poi ho un lancio di rifornimento col cinque. Opa, è sparita la luce. Dove che sei? Il genera scudo tutti ce l'abbiamo. Sì, sì. Uè, vieni qua a capo. Perché qui ci sono i funghi da raccogliere. Questi sono i funghi, vedi? Questi sono i funghi bolo. Dovremo raccogliere nei 20. Ah, ok. Quindi se li vedi... Ecco, una cosa importante che diceva Boomer è che bisogna stare attenti, ma questo più o meno me lo ricordavo anche nella Closed, a fare una strada di ritorno sostanzialmente, cioè a demolire la caverna in modo che però ci sia anche la possibilità di tornare indietro dove scappare per scappare. Ok, ecco, vedi ad esempio la che c'era Morchite. Uno di voi, se non sbaglio, può trivelare più velocemente, forse ai Medi, l'ingegnere, forse quello. Sì, vedi, ecco, vedi dove c'era Morchite sopra la nostra testa? Là. Potremmo la nostra testa? Quella lì nera? Sì, mentre Medi devi sparare con... La Morchite, la Rampissima. No, la Rampissima. Deve buttare giù le piattaforme. In che senso? Se lui butta giù col tre può tirare una piattaforma mobile. Lui tira la piattaforma che fa tipo... Ecco, tipo quella. Là è la più... Sotto la Morchite dove ho messo il Flare. Io col Rampino vado su e mino. Aha, 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 però fanno anche una più bassa se puoi. Quante ne puoi piazzare di quelle roba lì? Eh, ne ha 20 al massimo. Al massimo, non si riforma, no? No, non dovete fare la scletta. Ha detto, lo fai direttamente sotto lì. Lui col Rampino va sopra da solo. A minarla. Beh, in questo caso va lui. Perché in questo caso va lui. Se dobbiamo andare tutti. Se dobbiamo andare tutti, sì, ma adesso... Non stiamo a sprecare le piattaforme così. Ok, vai. Ah, sì, è quella la Morchite, giusto, è quella che sta qua. Questa qua nera la vera adesso. Eh, ma non l'ha fatto... Ah, sotto sotto, è sotto sotto. C'è. Direttamente sotto la Morchite. Dove c'è quella luce, il waypoint? Ok, dov'è? Eccolo che va. Lavora, schiavo. Vabbè, potetevi andare su anche. Allora, taricamente, voi potete venire su. Dove è quello che mette le terre feriche? Sono io. Ecco, se tu mettessi una terre ferica tipo qua, in alto... Ecco, vedi. Ok. Ciao. Vabbè, ho preso tutto. No, ce n'è ancora qualcosa lì. Ah, cato! Ah! Mi sono spaventato. Eh, il piccone dov'è? Su che tasto è il piccone? Destro, destro. Ah, adesso destro, ok, sì. Il tasto destro usa automaticamente il piccone. Cerca del terreno... Aspetta, dove... Sto cercando sta terra sul muro, ma non la vedo. Eh, perché... Siamo solo a 14 di Morchite e 20 in alto a... Ma si può andare anche sopra, guardali, eh, non vedo niente. Eh, perché devi sparare qualche flare. Dov'è la depos... Ok, qua è il deposito. Un po' di roba anch'io. Ok, adesso in che... E se come facciamo sapere dove l'altro Morchite? Ragazzi, ma se andassimo là... Un secondo, dove lo punto? Laddove? Qua. C'è una via. Ecco, esempio... Beh, allora, il gioco ci ha detto che c'è del terreno su qualche muro, dobbiamo scavarlo. Sì. Dove è sta la musica, la Stranger Things? Sì, infatti. Lo avete fatto? Eh, arrivano i mostri. Quella lì, eh? È la musichetta da mostro? È quella lì? Ah, sì, forse è quella lì. Aspetta. Va a vedere? Vabbè, che la musica l'ho tolta. Ah, ok, sì, di qua dobbiamo andare. Ok, vado a scavare. Ok, io ho trovato un fungo e basta. Terreno morbido. Andiamo. Qua? Ah, sì. Sono fortissimo. Aha. No, il mio flare! No! Medi va a scatti perché lui ha connessione peggiore di tutti. Ah, questa è vita. Oddio, non lo sapevo. Quella rossa è vita. Sì. Questa invece è niente. Niente. Ma non ci serve in realtà adesso. Nitra è vita. Arrivano due boss, raga. Come due boss? Digià! Sì. Vieni da noi, vieni da noi. Eh, sono... Dov'è che... Siamo andati avanti. Ma se... Siamo andati sopra. Oh no, oh no, oh no. No, ma avete fatto... Qualcuno ha scavato un tunnel vuoto qui. Ma che mince avete fatto? No, no, non è lì sopra, è più alto. Facciamo una cosa. Dove prendo da qua? Oh, oh, sale, 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 sale. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Uno è morto. Ok, vieni se non c'è te la. Sì, siamo qua. Andiamo. Ma fare una teleperica per scendere nel caso? Dopo. Ecco, mi serve la vita, ma... Eh, se non l'avete rotta tutta. Qua c'è qua, c'è qua. Bisogna dei... Cos'è il zucchero filato? Cosa vuol dire zucchero rosso? Rosso. Eh, la nitrite. Eh, la vita. Eh, lei la si chiamava in altro modo però. Eh, non so come cavolo si chiama. Chiama zucchero rosso, lui. No, no, aspetta, no, quasi veramente... Ci restano, quello che raccogliamo cos'è? Oi, oi, oi. Prendere l'oro cosa comporta in questo caso? Niente, eh. Ti dà soldi a fine missione più esperienza. Diciamo, più roba raccogli meglio è. Ok, dobbiamo chiamare... Ecco qua il mule che raccoglie... Dov'è il mule? Il mule è qua dietro. Ah, ecco. Il branco di peritoria si sta dirigendo verso il nord. Amici. Occhio che c'è il... Mi diceva che c'è anche il friendly fire attivo. C'è. Ah, è tossido, guarda. Il fungo. No, poi se premi il... Il control... Mi sembra che tira fuori la macchinetta. Ma che la fai? Che ti dice... Eh, ti dice cosa sono le cose, no? Sì. Le puoi marcare, no? Vedi? Oh, beh. Ah, sì, tu. Ok. Ragazzi, nemici. Quanti nemici. Hanno le parti deboli, no? I nemici. Sì, sì. Eh, tipo questi. Uccidili col piccone, così risparmi munizioni. Qua, questo da dietro, sparate di dietro, sparate di dietro questo. Perché davanti è più protetto. Sì. Ahia. Sì. Ahia, non uccidere me. No, no, no. Ahia, 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 ahia. Questa cos'è? C'è un po' mi... Eh, no, io sto per morire. Torretta. Sì. Ma, vele buone. Anch'io. Questa. Ragazzi, ma di... Adietrano. Io sono in terra, eh. Eh, è arrivato un po' di gente, eh. No. No. Minchè come la vedo male qui. Metti è ancora vivo. Ma quanti cavolo sono arrivati? Qui bisogna sfruttare molto... L'aggro e sparargli dietro. Falli girare e sparargli dietro. No, no, sparatemi, non sparatemi. No, no, dov'è lancia fiamme? C'è il resto cazzo di boss. Tu com'è mai se... Sei tornato, Mattia? Sei rinato? Ahia, no, mi han... Mi han arrestato. Aiuto. No, ma quanti ce li so? Poi posso far solo tanto, eh. Non posso... Eh. Ah, c***o. Se c'è lancia fiamme. Sì. Ah no, è rimasto... Ma cosa fai? È rimasto quell'arma lì? Cioè, è rimasto quello, invece del... Ah, ok. Oh, maranno garmone. Ci siamo persi... Se lo discono un po' se raccogliere, no? Ragazzi, io sono inseguito ancora da... Nitra uguale munizioni, mi ha detto, eh. Non la vinta. No, dal Nitro... Dal Nitro ti serve per chiamare... Le cose che ti danno armi. Quindi, se quella la vedete, prendetela. Come faccio a prendere quel robo lì? In che senso servono per chiamare le cose che fanno armi? Eh, quando finisci le munizioni... Eh? Col 5 chiami i rifornimenti. Però ti serve 80 di Nitra. Ah, ok. Invece invece questo qua è... Ehm... Lo zucchero rosso invece... Ok, la Nitra è per le munizioni e il zucchero rosso è per la salute. Ok. Però è uguale. È solo illuminato, diciamo, lo zucchero rosso. Cioè, uno è un minerale e l'altro è lo zucchero rosso invece ha questa specie di luminescenza. Sì, lo zucchero rosso. No, il mulo sta commesso con me. Non so perché. Eh, perché c'è roba da depositare. Ma ragazzi, ma le costo riprendere? Ecco, ecco. Ehi! Che vuoi? Perché? Le munizioni ce ne avevo ancora? Ok, quindi... E non trovare... Come... Ragazzi, ho fatto tutte le munizioni che... 5 sono un po' di... 5. Eh, un secondo che... Non vi trovo... Avete le informazioni... Ah, forse non... Forse avete tolto il tutorial. Sì, però il coso che lo chiami... Con su un botte di Nitra tutto il team. Quindi mi metterò assieme, poi vedremo le munizioni. Eh, sì, ma... Sto arrivando, ragazzi. Sto da voi, praticamente. Cioè, mi sento la... Sì, ma lui sta dicendo... Devi farlo da noi, sostanzialmente. Facciamo che qualcuno di voi l'ha chiamato. Io ora lo seguo. Lo chiamo qua? Eh, sì. Chiamalo lì. 10-80 di Nitra? Eh. Eh. Eh, ne abbiamo... Eh, ne abbiamo... No, ne abbiamo 15. Io ne ho 40, se mi viene da me. Allora non mi sento tutto il gruppo. Uh, vi ho trovato. Vi ho trovato. Se vi venite qua da me c'è un'altra Nitra. E un'altra roba. Oh. Eh, questo qui pure. No. No, no. Io ho due... Ah, eccolo! Ciao, amico mio! Ciao, mio caro. Ok, è qua il mulo. Cioè, ma non c'è quello di squadra, quindi. Cosa? Non c'è una cosa di squadra totale? Dei minerali? Sì, sì. Te l'ha appena fatto vedere. Come ha fatto a farmelo vedere? Perché adesso è andato via? Perché stavo depositando io. Ma io come vedo i minerali che ho raccolto, ragazzi? Eh, cioè, gli hai sotto. Sotto. Ok, quelli sotto sono i miei, quindi. Sotto dove? In mezzo. In mezzo sotto. In mezzo. A meno che non hai raccolto niente. Ma io lo chavo raccontando. OI! Da dove cavolo sono uscito fuori? Io non ho munizioni per la pistola più. OI! Aish! Mi continuate a prendere quella mordita lì? Mordite, no mordite, vabbè. Mordite. Sto giocando ad altro. Ok. Ecco, vedi? C'è il massimo... C'è il massimo. Il rifornimento li hai chiamati, quindi, questi? No, se adesso sì, ne abbiamo un 99. Possiamo chiamarlo adesso? Chiamiamolo? Eh, sì. Beh, sì, perché a me servirebbero munizioni per la pistola. Mi arrivo, stai indietro, dice. Sì, ecco, non state vicino, che è come i drop di PUBG. Credo a me. Ti uccido. Ehi, ehi, ehi! Diccio le spade. Ah, quello è spade. Ok, eccolo qua. Eh, Apex, da dove ha copiato? Ah, munizie, sì. Sì, ma qui c'è un pacco di nitro, nessuno l'ho visto. C'è un pacco di che? C'è la nitro, lì, dice. Quanta nitrite c'è, raga? Morchite. Io non so questi nomi, ci sono troppi nomi per me, eh. Come si fa ad abbassarsi qua? Ogni gioco non ci si può abbassare, eh? No. Ah. Io sto giocando a 20 giochi e ultimamente ognuno ha i suoi tasti. Mi impazzisco. Quindi lo scudo non si riformano, sostanzialmente. Chi è che si è fregato doppie munizioni qua? Mi avete fregato? No, io no. Oh, 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 oh no. Ok, sono andato un po' troppo sotto. Lo scudo si riforma? Sì, qualcuno ha sempre. Cado due cose di munizioni. No, io scusa. Pensavo non servisse. Allora, cerchiamo di capire come la strada... Ah, ok, c'è il percorso di qua. Vabbè, dobbiamo prendere Morchite. Ce l'abbiamo un po' lì, ma dobbiamo salire. Ho fatto la piattaforma come l'altra volta. Chi è che deve... Boomer, piazza un po' di quelle luci. Eh, aspetta, che c'è ancora Nitra qua. Non l'avete presa. No, no, c'è l'ultimo pezzo, no! Allora, mi serve una piattaforma qua. Terra compressa. C'è una piattaforma qua. Dov'è? Il muro è sul... Qui. Ce l'ho marcato la Morchite. Erebbe una piattaforma là. C'è che il muro... Il muro è un posto più scomodo o no, eh? Eh, bu... M... Mady, se tu che devi fare, c'è un po' romano. Dove? Dove lo devo mettere? Vieni qua, vieni qua, vieni dove siamo noi. Sotto qua, sotto questo. Sotto di questo. Morchite. Morchite, non Morchite. Ok, ahimì, c'è questa... C'è lo spread. Occhio che sta venendo da te. Ehm... Non ti voglio non far prendere la Morchite. Eh, non... Eh, non mi prenderanno neanche a vivo però, perché c'è il buco in mezzo. Puoi fare un po' di luci, Boomer? Ci sta provando, poveretto. Beh... Ero incastrato nel muro. Granate non ce ne... Non ne abbiamo? Sì, sì, tenei più molto giro. Escono dalle fotture Vareti. Io sono volato giù. Andate quasi finite, grazie. Ahia, Mady se è solo tu, eh. Eh, sì, come prima. Ma se per esempio moriamo tutti, cosa succede esattamente? È un wipe. È un wipe. Ma possiamo tornare qua? O da rifare completamente la missione? Sì, sì, torniamo in base a rifare la missione. Tirolo su, tirolo su. Eh, un po'... TIRAMI SU! Eh, come ti tiro tu, non tu hai visto quanta gente c'è. Oh, madonna. Allora, che era quasi finita, ma... Ecco, fai spalle. Tuone indietro, tuone indietro, in effetti. Speriamo che Mady ci salvi. Mady lo scattoso. Ma guarda, sembra di vedere... Fa impressione. Non siamo un modello 3D, ma siamo uno sprite. No, che poi c'è il boss che lo segue, ma se non spara dietro al boss non uccide. No, il problema è che c'ho il fucile a pompa, è un po' problematico, perché... Ho paura di perdermi, praticamente, cioè di non inchiommarmi da qualche parte. Dai che forse sono su quelli. Beh, io ho visto i boss sul corpo mio, hanno tirato via... hanno perso l'aggro, però sono sul corpo mio. Hanno perso l'aggro. Ci verrà uno, due... L'aggro! Ah? C'è il bulo che lo sta seguendo. A lei mi hanno perso l'aggro, poi ci vederanno l'aggro. Sarai, piccata mi domando se si ammira. Mi sta venendo in dubbio. Vedi, a questi boss, se li spari davanti, non gli fai nulla. Eh, non so, gli spari sulla coda. Gli fai poco e nulla, sì. Il problema è che sono l'ultimo, è sembra io. Allora, corri, corri, corri da me, corri da me, corri da me, corri da me. Infatti, li hai distanziati, vai, vai, vai. Ho fatto quello che volevo fare. Allora, sono il bulo dietro. Veniamo agli altri e andiamo. Ti provo, ti lascio guardare. No, ho avuto un po' che si girarmi. Corri, scappate. Per essere il secondo livello di difficoltà di quattro, c'è tanta gente. Non sono letalissime, ma c'è tanta gente. Allora, il fungo che devi prenderlo. Medico, il fungo lì dovessi tu prenderlo. Cosa stiamo? Sì, stai scusando. I sali? Cos'è? È imprecisissimo questo cavolo. Ecco, un boss è andato. Sì, poi qualcuno ha messo giù le torrette, ma non le ha costruite. No, io no, è perché praticamente non avevo capito che dovessi fare il call e poi montarle. Non avevo capito come, perché non l'avevo fatto fino a quando non sono venuti nemici, praticamente. Quindi qua quando le ho metti è... Ok, adesso fattemi trovare vita. Allora... Eh, bisogna andare più avanti perché qua non ce n'è più. Quanti flair stanno a terra. Madonna. Noi, io ho finito tutte le munizioni, praticamente. Eh... Ci abbiamo tanta di nitra, quindi volendo possiamo richiamarlo. Come che fai a vederli? Eh... Lo so, memoria perché l'ho appena visto. Aspetta, faccio io, faccio io, faccio io, faccio io. Ma com'è che lo richiami quell'informazione lì, se lo vuoi sapere? Eh, non lo so. Ah, ok, sì, col control. Col control esce anche quell'informazione lì. Cento... Eh... Ottantanove ne abbiamo. Dove si vede? Cioè io... Contro, tieni premuto il control? Vedi che c'è scritto in alto, a destra? Ah, ok, sì, 11. No, non ci sono i tuoi di nitra, mi sa. In alto a destra, ho detto, medi, tu tieni premuto il control, esce lo scanner, ma in alto ti ripete quello che hai. Sì, sì, ti in deposit, ti dice, Gold, 104, no, io forse ho portato solo 14 di nitra. Da, quelle deposit di squadra. No. No, 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 no. Questa guarda, ma c'è scritto unitra 11. Ma sì, quelle deposit di squadra, quello che abbiamo nel mundo. No, 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 ancora non ha capito dove sta la roba tua. non dirmi che ancora non hai capito come vedi che la roba che hai minato tu la roba che ha in questo momento in saccoccia è in mezzo allo schermo in basso le munizioni raga dove c'è il muro qui aspetta che si gira scusa ah lì in fondo ok aspetta vetteranno indietro e boomer c'è vita qua che poi vedi è facile perderti perché comunque se non vedi niente di niente come che dov'è che si stessi saliti come al solito piove vita piove vita andiamo siete avanti voi eh no sono trovato indietro a prendere munizioni perché non vi vedo attraverso lo schermo se fai control velocemente siete fuori dalla zona ah adesso si ok anche ok ah ma con R ti chiamo non l'avevo letto ok con R ti chiamo le torrette ma io ne volto più afferlo si si venite indietro a riprendere le munizioni o no mi sa di no a sto punto perché se andateva ancora più avanti arriva qua morchini io le ho prese le munizioni altrimenti vedi che non ne hanno bisogno dove son dai c'è un buco qua metto sono più indietro si è molto più indietro dove aspetta ma son perso anch'io eccolo qua ok il mulo è stato da me perchè secondo me il mulo le munizioni le avevamo già prese le hai richiamate un'altra volta si mi ha richiamato un'altra il mulo sta arrivando guarda chi sono buttati che morbido tutto in fondo ma perchè targetta il muro la torretta minchè il muro dove arriva sto muro o no era da me un attimo fa non so perchè ragazzi arrivano nemici dove 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 ok ok arrivo 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 ma perchè l'hai fatto la scusa l'hai fatto più lontano del primo che abbiamo chiamato perchè morì nell'angolo il primo che è stato ma dice ancora morcitela ecco questo è che ti fa ah qualcuno metta la piattaforma quello che può oppure salgo alla minecraft aspetta dove va ok dove dove ti vado nooo aspetta posso salire posso salire posso salire alla minecraft non è vero non è vero non è vero no son caduto porca miseria eh ci sono io ci sono io no ah perchè ti rimbalzi perchè ti rimbalzi in testa e mi hai buttato giù porca miseria no non è vero questo si no mi sa che non puoi oh yeah o puoi puoi romperlo con le ok ma perchè non mettono in questo zucchero aspetta no fai la piattaforma sotto scusami scusami ancora va bene ecco anche me la vita in effetti a me servono le munizioni che l'ho finito vista cercando di sapere salire qua sopra mi si sta sbaggando in una maniera cos'è esso sono questi vermi? queste larve dai scava scava sto provando perchè non funziona? perchè non mi funziona? cos'è si è incastrato il system? si bloccano le armi? eh forse le consumate non è più munizioni no 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 c'erano era tutto rosso non lo so posso fare lo scudo? beh non ricarica gli scudi è proprio uno scudo protettivo? Cosa, avete sul 5 voi? Premi il 5, lo vedi? Sono morto, non posso prendere il 5 Ah, sei morto, no Non molette ho una posizione ...corretta Eh, lo so No, devo ricaricare adesso che c'è questo qua davanti Che bello, c'è anche il faretto, bello